Ciao a tutti, oggi torno a parlarvi di un'azienda di cui abbiamo già parlato e abbiamo visto tanti prodotti, la Lighting Ingever. Oggi parliamo di questa lanterna molto compatta, semplice nel suo design, però devo dire molto molto utile e pratica. Come vedete porta delle maniglie con cui noi possiamo portarle in giro e contemporaneamente con queste maniglie potremo appenderla dove più ci pare. Funziona in modo molto semplice, basta tirarla, come vedete si accende. È formata da luci a led per l'intera circonferenza, quindi con una luce a 360 gradi e ha una potenza di 60 lumen. Funziona tramite batterie che vanno inserite nel vano qui sotto, come potete vedere. Si svita e mettiamo tre batterie del tipo AA, tipo stilo, nel vano batterie. Basta richiudere di nuovo e quindi va in funzione in automatico. Basta semplicemente tirare su e si accende. Quando non avremo bisogno della luce, basta spingerla in basso, si chiude e quindi diventa più compatta e non avremo più la luce. È ottima per i campeggi, è ottima per chi fa agite in montagna, oppure durante un uragano in casa magari va via la luce e i bambini si sanno, paura. Quindi tramite questa lanterna non avremo problemi di luce, i nostri bambini si sentiranno più al sicuro. Può essere usata anche magari nelle notti d'estate sulla nostra terrazza per un'atmosfera un po' più soft. Insomma, ognuno ne potrà fare l'utilizzo che più gli pare. Un ottimo prodotto, come tutti i prodotti che abbiamo visto di questa azienda, ve la ripeto, la Lighting Gather, che potete trovare su Amazon a prezzi davvero competitivi. Ciao, alla prossima!